Benvenuti a un nuovo video di World of Warcraft L'ultimo video, quello precedente a questo qua Purtroppo non c'è per il fatto che mi è caduta Ho avuto un caldo di tensione Aspettate un attimo Vorrei vedere anche un po' tutto il schermo Questo lo spostiamo qua così Questo lo spostiamo qua così Questo lo ingrandiamo un altro pochettino E appuisce Questo che cazzeggio con la lava Magari questa qualcuna si fa male Vabbè Dimmi tutto Dimmi tutto Ma è spaccato l'orecchio Mamuceronte Sì forte Ho della merce in vendita Questa cosa fa? Salve comandante Salve comandante Ah praticamente Spiegandovi leggerissimamente la storia perché Poi me la sono dimenticata pure Poi me la sono dimenticata pure E se parlo col tizio dentro la caserna? Vabbè No non devo andare di qua Devo vedere qua Non è tutto risorso E lo so già E lo so già Puccina di guerra Non so Non so Poi che cosa farà? Tu non stavi giocando con la lava? Vabbè ogni tanto cambio Divertivo No no Questo coge troppo da sempre F*** Poff.... È una brutta persona Io non lo so Dove devo andare? questo corso lo dovrò avere per tanto tempo ok grazie allora qua dentro non ci devo andare cioè si è simpatica come cosa sta qua però non opterei per un meglio di no povero petto cos'è un'altra cosa è ancora pronta Non è uscita. Non è uscita. Non è uscita. Non è uscita. Ah la crema esicolazzata è bellissima, stava molto. Non c'è la parte di città di vita. Non c'è la parte di città di vita. Non c'è la parte di città di vita. Belva dei lupi bianchi. Non c'è la parte di città. Allora. Forza e onore Dabu 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 L'Octar per l'Orda L'Octar per l'Octar per l'Orda 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 Andiamo Fiuto fine Fiuto fine L'Octar per l'Orda L'Orda L'Octar per l'Orda Fino al suo ritorno Andiamo ciuchino L'Octar per l'Orda Venite amici Se volete combattere a fianco del nostro clan vi daremo le nostre benedizioni Tocca la pietra sciamanica Abbraccia la saggezza di questa terra e degli antenati che ci hanno preceduti Lo sento Questa terra mi parla Ma in una lingua che ancora non comprendo Sono ancora provato da quegli stregoni infernali Gli spiriti Tacciono Gli spiriti non ti abbandoneranno mai Drekhtar Te lo assicuro Questa terra ha bisogno di te Corri con il branco Corri con il branco Io Ma che lo voglio Trovo mai scusato Andiamo Va bene Super Andiamo Sì, Fonte. Duro, Jam. Tuo fratello è già andato avanti. Canar è valoroso ma impaziente. Ha preso con sé alcuni dei nostri migliori guerrieri. Non ascolto nessuno. La sua imprudenza potrebbe costarci, cara. Questa è la passaggio. Questa è la passaggio. Quì, alla torre, questo sarà il nostro avamposto. Soro, soppurriva, Lactar! 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 L'arte specific ho routines, 진stream ίal打 City! Imparcopti all'estudio! L'impare d'un digesto their status. A fet di pulere l'esplante. All'estudio dell'esplante. ... ... ... è abbastanza leggero benvene è giusto guarda mi sta ancora ricaricando avvicinando mi sta abilitando è abbastanza leggero lo so è abbastanza leggero sui sui Grazie. non vediamo il giallo allora molto and then taranno shimanon non vi vedo carallo perché su Drenor gli elementi non rispondano al mio richiamo come su Azzerlth vai avanti Durotan attende devo riprendere fiato ok l'energia è sufficiente no no c'è grosso qui carino com'è non 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 E' un po' più difficile. Salve amici dei bianchi Proviamo la forza Io porto al sicuro questi orchi Ci li vediamo all'esterno Stai fuori dalla portata mia Come here Allora con la 2 Allora 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 Sto parlando, eh? Non posso depredarlo, no? Non mi voglio Non posso ancora farlo Tengo energia sufficiente Nice Eeeh... No? Non ho voglia A tenere Sto ancora pronto Stabilità ancora pronta Non venga abbastanza energia L'orecchia Ancora birretto Cosa? Eccolo là Caso um Meric Viagre Non so perché mi deixe altra porontano a parola lui to vindo di estrella Cosa? Cosa? Dai qua combattiamo uniti o moriamo da soli rampa scalare chi è quello? non ti dicevo le ore è stram questa terra è ben diversa da Azeroth abbastanza per l'orda per l'orda dottore sono qui sono buttato giù il monotematico proprio la parte ardente di Alizer non ci dicevano proprio compite non ci dicevano cheaa non ti diceva non ti diceva non ti diceva Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbandi i nostri nemici. Ah, devo tornare al posto per segnare il montaggio. Rantellante. Sta troppo lungare. Sta bene da evitare. Non so ancora male. Stai scendendo da evitare ancora lunga. Sta fuori dalla botella. Abbandi i nostri nemici. Abbandi i nostri nemici. Abbandi i nostri nemici. Stai scendendo da evitare. I suporti i nostri amici. Sta fuori dalla botella. Dombra della botella. Stai scendendo da evitare. Scendendo da evitare. Sta troppo lontano Non posso ancora fare Anche energia sufficiente Sta ancora qui Non mi prendo un bersaglia Che c'è qua? Non mi prendo un'esprende? Non mi prendo un'esprende? Non mi prendo un'esprende? Lontano Qual è? Quattro? Sto bene da nulla, venga energia sufficiente. Sto bene da nulla, venga abbastanza energia. Venga energia sufficiente, venga abbastanza energia. Venga energia sufficiente, venga abbastanza energia. Sto bene da nulla, venga abbastanza energia. Sto bene da nulla, venga abbastanza energia. Sto bene da nulla, venga abbastanza energia. E's la flora di metrano. Sto bene da. Sto bene da. Sto bene. Sto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ovviamente questo qua è il fratello di Durotan. La fortezza è nostra. Vieni fratello, dobbiamo incalzarli. No, Ganar, siamo circondati e vulnerabili. Dobbiamo riorganizzarci. La forza nasce dalla famiglia. Radunerò i nostri guerrieri e ci penserò io. Razza di incosciente. Corri con il branco. Noi. La forza nasce dalla famiglia. e alcuni dei nostri migliori guerrieri si sono allontanati con quell'incosciente di mio fratello. Sono rimasto colpito dalla tua abilità nello scontro con Borog, il crudele. Sarei onorato se volessi continuare a combattere al nostro fianco. Tormace. Noi andiamo. Lui è già copiato per il trainer. Corri con me. Salve, amici dei lupi bianchi. Rudo, a dove ti dracca? Dille che presto sarò a casa. Cosa. Cosa sull'est? Ah... facciamo che per questa puntata è tutto quindi la posso un guerriero anche se con l'originale sarebbe non male comunque come ho detto per questa puntata è tutto quindi aspetta beh si è fatto è pronto chiamene dopo dopo questa chiamata chiudo il video e alla prossima ciao ciao